Ciao e benvenuto in questa nuova sezione Il forum di Silis Viaggi celebra un grande evento L'apertura di una nuovissima area dedicata interamente ai video Al giorno d'oggi la tecnologia permette di realizzare piccoli cortometraggi in poco tempo e con ottimi risultati Ecco quindi che abbiamo pensato di ospitare i migliori prodotti creati dai nostri utenti Cosa aspetti? Partecipa anche tu Guarda i video proposti oppure mandaci il tuo seguendo le istruzioni elencate nel forum E buon divertimento! Grazie a tutti! Grazie a tutti!